E carissimi amici ed amiche, benvenuti sul canale anche stamattina e volevo brevemente dire due parole per questo caso che ormai sta andando un po' nel dimenticatoio, quello della scomparsa della piccola Cata, avvenuto a Firenze, come vi ricorderete, il 10 di giugno scorso. Si è fatto tanto parlare di questo caso, voi sapete come la penso e come in linea generale le cose sono andate. Una bambina scomparsa nell'ambito di un ex hotel di Firenze, occupato abusivamente ovviamente da gruppi di peruviani e rumeni, terra di nessuno, nel quale ex hotel c'era innanzitutto un racket degli affitti dove questi personaggi malavitosi gestivano l'affitto di queste camere a una o un'altra, nonché insomma poi giro di droga, di ricettazione e di tutto il resto. In questo ambito c'era un ambito promiscuo in cui giocavano bambini, bambine, c'erano adulti, persone che andavano e venivano proprio come un albergo perché queste stanze non solo venivano affittate diciamo a persone stanziali che stavano là per lungo tempo ma anche per pochi giorni così a questi personaggi che andavano e venivano. E' in questo ambiente, in questo habitat che il 10 di giugno sparisce questa bambina. Dovete sapere che questa bambina stava all'interno, giocava all'interno, stava all'interno di questa struttura. Quindi non parliamo di una bambina che stava in spazio aperto, in spazio pubblico per cui come è avvenuto per tanti casi, ahimè, tipo Angela Celentano per dirne uno, ci si rivolge un po' a 360 gradi a tutta la collettività, ci si rivolge a tutti perché non si sa la direzione da prendere. Può essere il pedofilo, può essere un pazzo, può essere qualcuno che ce l'aveva con la famiglia, può essere qualsiasi cosa. Allora ecco che in quel caso lì le indagini partono a 360 gradi ed è giusto che sia così. In questo caso qui invece le indagini non potevano partire a 360 gradi ma erano ben precise perché colui o coloro che all'interno o dall'esterno sono entrati lo hanno fatto con la complicità, con la connivenza di coloro che stavano all'interno perché lì nessuno poteva entrare senza essere visto, senza essere notato, tanto più poi prendendo una bambina che non è mai stata vista uscire dall'albergo, dalle varie entrate diciamo principali e quindi c'è una sola uscita diciamo non sorvegliata la quale si raggiunge mediante un cammino tortuoso all'interno dell'exote l'astro superando anche un piccolo muro di cinta eccetera eccetera e poi un cotidoio, un viale e si esce per un cancello. Quindi chi sapeva ciò era qualcuno del posto, qualcuno che abitava, che frequentava, che sapeva che gli era stato indicato perché non è che si prende una bambina e si sa esattamente poi come farla uscire perché questa bambina di lì è uscita, è uscita sicuramente e se fosse stata presa così d'un blé sarebbe stata vista se fosse uscita per i vaschi principali diciamo così. Quindi cosa mai poter pensare? cosa mai poter pensare? Che essi stessi dentro la loro comunità sia di peruviani che di rumeni deve stare lì la verità. Per cui io sono stato sempre contro a queste manifestazioni, a questo che hanno detto queste parole, tante parole fuori posto dette anche dai genitori, addirittura figuratevi che gli inquirenti hanno fatto in modo che dei nuclei specializzati dei carabinieri, cacciatori di Calabria, specializzati nel ritrovamento di rifugi segreti, hanno ispezionato ancora recentemente, in tutti gli anfratti, buchi, doppi fondi, qualsiasi cosa per il recondito pensiero che la bambina fosse stata comunque soppressa e nascosta in qualche anfratto, niente, hanno fatto palmo a palmo tutto verificato, la bambina di lì è uscita, o viva o morta, è uscita. E quindi quando questi genitori cominciavano ad andare in tv, innanzitutto ad accusare gli inquirenti di non fare abbastanza, non ci hanno fatto sapere niente, non hanno visto dove noi abbiamo indicato le piste alternative, abbiamo visto il palazzo di fronte, quello che si affacciava e che vedeva i bambini giocare, hanno cercato sempre di spostare l'attenzione altrove ed hanno sempre criticato le istituzioni italiane, quelle stesse istituzioni che hanno permesso loro di stare abusivamente nel nostro paese, occupando abusivamente una struttura e stando lì senza pagare nulla ovviamente, anzi non solo senza pagare nulla, ma usufruendo quindi illegittimamente degli affitti delle stanze, quindi immaginate. E quindi in tutto ciò abbiamo il fratello di Caterina, la mamma della piccola Cata che sta in carcere, Miguel non lo so se sta ancora in carcere, il papà, il fratello del papà in carcere, cioè tutte persone così, certamente non specchiate, tutto ormai coinvolto in questo San Baradan di violenze, ricettazione e altre imputazioni del genere. Ora ecco perché, ecco perché alcuni appelli sono fuori luogo, gli appelli essi li dovrebbero fare alla loro comunità, perché all'interno della loro comunità che sta la verità che probabilmente non uscirà mai fuori, visto il tempo passato. Però perché oggi, oggi dico di nuovo queste cose? Perché ieri sui giornali, ecco la novità, che a me anche questo è sembrato un poco, un poco fuori posto, cioè l'appello al Papa. Ecco, il Papa, il Santo Pontefice che è stato invocato dalla mamma e dal papà della piccola carta, per carità, il Santo Pontefice, il Papa che dica una parola di conforto e di preghiere per tutti, fa solo bene. Però essi, vedete, è il modo perché essi, tramite i loro avvocati, si legge, Sharon Matteone, Filippo Zanassi mi sembra, si sono rivolti a Santo Padre con una lettera per chiedere un aiuto nella ricerca della piccola carta. Quindi rivolgono a Santo Padre un'accordata richiesta di preghiera e di forza per continuare a resistere nella ricerca della piccola carta. Io vorrei chiedere, ma per continuare a resistere cosa? Bisogna continuare certamente nella ricerca della piccola carta, ma il Papa non può fare altro che pregare affinché il cuore degli uomini si apra alla bontà, ma non si deve dare questa idea che chissà cosa è successo, il Papa possa fare qualcosa per un appello a 360 gradi a tutti. Il Papa in questo caso qui può solo pregare che essi stessi vadano a interloccare le loro coscienze per dire cosa è successo quel pomeriggio. ho visto anche un castello, aiutateci a ritrovare Catalea con la speranza che sua santità possa trasmettere la forza per continuare a cercare la piccola e far scomprendere alla mamma che non è sola. Mi sembra qualcosa, diciamo che se lo potevano anche risparmiare. È un modo, vedete, di porsi, non è di per sé, di per sé è anche una cosa buona chiedere una preghiera al Papa. Ma il modo di porsi, come dire, noi non sappiamo nulla, siamo del tutto ignari di quello che può essere accaduto e quindi chiediamo aiuto a tutti. Secondo me è un modo di porsi molto sbagliato. Si è conclusa anche poi l'advocatore internazionale, come sapete, con la quale la procura di Firenze ha ascoltato 14 persone in Peru e fra loro anche quel famoso uomo coinvolto nel giro di quel traffico di droga, quella pastiglia di droga non pagata, per cui la compagna di Costui fu minacciata, poi era ospite sempre dell'ex Hotel Assur, con la figlia che è una bambina più o meno della stessa età di casa, per cui si pensava, si pensa ancora che qualcuno possa averla presa per un rapimento, per un'essorzione e abbiano preso la bambina sbagliata. Questo è un dubbio che ancora rimane, rimane certamente. Perché anche una volta che magari tardivamente i rapitori, con l'acquiescenza di coloro che stavano all'interno sicuramente, i rapitori magari una volta accostesi dell'esore troppo tardi non sono tornati indietro e chissà che fine hanno fatto fare alla bambina. Quindi diciamo che anche in questo caso qui dell'esore nel prendere la bambina, la soluzione va trovata all'interno dell'ex Hotel Assur, cioè all'interno di quella comunità. Ricordiamoci che quel famoso zio Abel era lui il custode della bambina e quando è sparita inspegabilmente una volta dice stava facendo addormentare i figli, una volta cambiava il pannolino, una volta era distratto di qui di là, certamente se qualcuno è entrato all'interno, se qualcuno ha agito lo ha fatto con il permesso, con la condiscendenza di coloro che controllavano tutto. Poi magari qualcosa è andato storto, c'è stato un rapimento per sbaglio, c'è stato qualche vendetta nei confronti dei genitori di questa bambina. Ma è lì che bisogna trovare la soluzione, non andare a fare appelli anche al Papa di pregare, appelli diciamo alle istituzioni, appelli affinché gli inquirenti diano loro delle risposte e che non mi hanno fatto sapere niente e che non ci hanno ascoltato nelle piste che noi abbiamo indicato, immaginate, quindi loro fanno anche gli inquirenti. Non va bene così, quindi voglio denunciare anche questo oggi. Ancora diciamo questo atteggiamento poco costruttivo a mio avviso e ancora un atteggiamento con il quale si vuole coprire qualcosa che invece non andrebbe coperto, ma andrebbe veramente denunciato. Grazie amici miei, condividete il video e vi auguro una buona giornata. Un abbraccio a tutti quanti voi.